buongiorno 7 dicembre si si 7 dicembre 8 e un quarto e il tempo è questo non riesco a capire se ho un filtro rosso sugli occhi stamattina che strano c'è una una luce rosa non si capisce bene la è dove sorge il sole che non c'è e non sembra il radi tutta sta luce vagamente rosa stanno per finire il mondo io prima che finisca il mondo mi vado a fare colazione poi magari visito l'arcobaleno e poi può anche finire il mondo stanotte non pare aver fatto tutto sto freddo infatti adesso si sta benissimo è vero che ho la stufetta accesa al minimo che temperatura abbiamo ci sono tre gradi e mezzo fuori e dentro 18 è nuvoloso c'è proprio questa colorazione rosa nell'aria non so che non si è capito la mazza di cosa ho detto perché sto sbadigliando ma c'è questa colorazione rosa nell'aria strana poi magari basta che metto un po di collirio e questo rosa se ne va oh è vero ieri sera mi ho fatto una padellata di finocchi che profumino e mi sono fatto una pasta erano le sette e un quarto sette e mezza se mio pranzo l'ho mangiato come un vitellino ieri sera due porzioni di pasta oddio ho mangiato meno di due etti ma è insolito per me ed è insolito mangiarli così verso le sette e mezza cioè non è vero in questi giorni sto veramente sforando i miei erari di pranzo e lo sto anche accusando un pochino perché la preferenza è di andare a dormire stomaco vuoto per quello che non c'è no che poi le sette e sette e mezza è una vera e propria cena che dici stamattina mi sa che io e te non abbiamo nulla da dirci vero mi preparo la colazione e poi capisco chi sono che ho provato a questa video ooooh oh il 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 la colazione un beverone qua carassone qua telefono qua l'ingrediente principale invece è la cani sciolti nelle città alzano volume con il boom boom ciao che ci sono però quel giorno quando viene sarà come tanto con le iene di dietro e caniciotti davanti boom boom c'è una cosa che so e che non ce n'è visto che ancora oggi come ieri vivo un clima di tensione negativo le radiazioni hanno fatto danni su chi è cresciuto negli ultimi vent'anni i bambini sono stati contagiati nati patinati figli ingrati ora noi facciamo piano mentre ci muoviamo svestiti c'è una nazione in fiamma e tutto intorno a me il campionatore ormai c'è un come non come non 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 e ora cucino sono le 3 dovrei pranzare verso le 4 le 5 ma ho fame perché stamattina mi sono allenato tanto 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 e adesso ho tanta tanta fame carboidrati yes mi sono allenati i polmoni fusilli integrali con un filino d'olio crudo e una grattugiatina di parmigiano ti è non 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 E io, mi chiamare, mi chico, sai che me, glizzo, vivo, vivo come vivo, preso male per me. E io, mi chiamare, mi chico, sai che me, glizzo, vivo, vivo, come vivo, preso male per me. e io, si chico, sai che me. Noi, non è che. oo buon appetito finito di pranzare ora sono le 4 in punto è stata così tutto il giorno ho fatto un po di pulizia, ho lavato i piatti, sistemato delle cose ci sta una bella tisanina zenzero e limone il rimone il rimone piacere 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 Grazie a tutti.